Momento decisamente importante a Palazzo di Città, vertice tra il Sindaco e 5 parlamentari ionici, 4 del Movimento 5 Stelle più pagano del PD. Affrontati i temi legati alla recente ordinanza emanata dal Sindaco Melucci sull'ultimatum nei confronti di Arcelor Mittal, adeguamento degli impianti entro 30 giorni, sia per la salute dei cittadini che per la sicurezza dei lavoratori oppure fermata degli stessi entro due mesi. C'è il supporto dei parlamentari ionici su quella che è la linea di condotta adottata dall'amministrazione? Beh, mi sembra di sì, ma non è una linea di qualcuno in particolare, è la linea di ciò che ha bisogno Taranto. Ormai, come dicevo, si è spezzata la corda, siamo tutti molto stanchi e indietro non si torna. Quindi è un bene che tutti parliamo la stessa lingua, che tutti abbiamo in testa pochi semplici obiettivi per la rinascita di Taranto. Su poche cose importanti come quelle che abbiamo dichiarato stamattina siamo tutti quanti allineati e siamo tutti tarantini. Unità di intenti del territorio, a prescindere dal ruolo che ognuno di noi ricopre e dall'appartenenza politica, Taranto vuole che essere trattata come sarà trattata a Genova nel 99, ossia un accordo di programma che preveda quindi una graduale chiusura dell'aria a caldo, un mantenimento reddituale dei lavoratori, che venga rinforzato all'aria a freddo e quindi tutto quello che di fatto abbiamo sempre ribadito lo confermiamo. Siamo tutti quanti concordi nel sostenere che se dovessero essere confermate quelle bozze che circolano le riteniamo irricevibili. Siamo tutti quanti d'accordo su una questione di fondo, che ogni piano industriale, ogni accordo non possa prescindere da una valutazione di impatto sanitario preventiva che vada a spegnere le fonti inquinanti dell'ex silva e che possa mettere lo Stato italiano di fronte alle responsabilità di bonifiche e di salvaguardia del territorio che merita.